Tinto Brass, noto regista italiano, ha trascorso una vita permeata di un intrigante amalgama di creatività, scandalo e tragedia. Dietro le quinte del suo lavoro provocatorio e audace si cela una storia personale che ha lasciato un'impronta indelebile sulla sua carriera. La sua vita è stata segnata da eventi tragici e difficoltà che hanno plasmato il suo carattere e hanno influenzato profondamente il suo lavoro artistico. Nato con il nome di Giovanni Brass il 26 marzo 1933 a Milano, Brass ha intrapreso il suo cammino nel mondo del cinema sin dalla giovane età. Dopo aver iniziato come assistente di un grande maestro del cinema neorealista, Roberto Rossellini, sembrava che Brass fosse destinato a una brillante carriera nel panorama cinematografico italiano. Tuttavia, la tragedia ha gettato un'ombra oscura sulla sua vita. Appassionato di cinema, alla fine degli anni cinquanta trascorre due anni come archivista alla Cinematec di Parigi, in Francia. Ha così modo d'avvicinarsi agli ambienti della Nouvelle Vague. Quanto torna in Italia, diventa aiuto regista di Alberto Cavalcanti. Mentre è già assistente di grandi registi, come Roberto Rossellini e Iori Stevens, Tinto Brass esordisce alla regia con In Capo al Mondo, nel 1963, di questo lungometraggio cura anche sceneggiatura e montaggio. In seguito cambia il titolo in Chi lavora è perduto. Partecipa a varie produzioni, come Il Disco Volante, e La Mia Signora, quindi torna a lavori moduli espressivi sicuramente diversi, come Col Cuore in Gola, 1967, L'Urlo, 1968, e Nero su Bianco, 1969. A questi seguono, Drop Out, 1970, e La Vacanza, 1971. Proprio, La Vacanza, rappresenta l'ultimo film brassiano non incentrato sull'erotismo. La pellicola successiva, infatti, è, Salon Kitty, del 1975, il cui tema centrale è la sessualità e il suo rapporto con il potere e il denaro. Esce nel 1979, Caligola, ricostruzione storica dalla produzione molto travagliata, Brass viene estromesso dal montaggio. Action, del 1980, si contraddistingue per una propensione al grottesco. Nel 1983 Tinto Brass gira, La chiave, con Stefania Sandrelli, un film tratto dal romanzo omonimo dello scrittore giapponese Juni Kiro Tanizaki. Il film ha un buon successo di pubblico e critica consacra il regista nell'Olimpo del genere erotico. Escono poi, Miranda, con Serena Grandi, nel 1985, e, Capriccio, nel 1987, con Francesca Dell'Era. È il 1988 quando Brass dirige, Snack Bar Budapest, prendendosi una pausa dal cinema erotico, è un noir visionario. Torna all'erotismo più esplicito con, Paprica, del 1991, che lancia Deborah Caprioglio, e, Così fan tutte, del 1992, con Claudia Coll. Due anni più tardi è la volta di, L'uomo che guarda, liberamente tratto da un romanzo di Alberto Moravia. Iniziano nel 1993 le riprese di, Tenera e la carne. Il film, dopo pochi giorni di riprese, subisce un arresto per la morte del produttore e, nel 1994, Tinto Brass scrive insieme ad Alda Teodorani la sceneggiatura di, Lola il macellaio. La regia de, Il macellaio, viene affidata ad Aurelio Grimaldi con altra sceneggiatura e Brass riutilizza molte scene nella sceneggiatura del successivo, Monella. Gira poi, Fermo posta Tinto Brass, Monella, Tra, Sgre, Dire, e, Senso 45, quest'ultimo uscito nel 2022. All'età di 70 anni, nel 2003, gira, Fallo, cui segue, Monamur, nel 2005. Nel 2009 Brass presenta a Roma la sua rivisitazione teatrale del Don Giovanni, ambientata nella Venezia nel 1930. Porta poi a una retrospettiva a lui dedicata alla mostra del cinema di Venezia, il cortometraggio, Hotel Courbet. Nel corso della sua carriera, Tino Brass collabora anche con la rivista Penthouse ed è attore dei film, La donna è una cosa meravigliosa, di Mauro Bolognini, 1964, Lucignolo, di Massimo Ceccherini, 1999, La rabbia, di Luis Nero e, Il nostro messia, di Claudio Serughetti, 2008, Impotenti esistenziali, di Giuseppe Cirillo, 2009. Dirige il suo unico documentario a tema politico nel 1964, si tratta di, Caira il fiume della rivolta. Scrive nel 2000 la prefazione per il libro, Così come sono, di Malisa Longo e nel 2012 quella per, Sette piccoli racconti erotici, di Federica Tommasi. Il primo matrimonio di Tinto Brass è con Carla Cipiani, sceneggiatrice e collaboratrice, morta nel 2006. La coppia ha due figli, Beatrice e Bonifacio. Il regista sposa nel 2017, a 84 anni, la psicoanalista, ex avvocata e attrice Caterina Varzi con una cerimonia civile nella sua villa romana. Tinta, la mia prima moglie, e Caterina sono le donne più significative della mia vita, racconta in un'intervista a Il Giornale. Parlando delle attrici con le quali ha collaborato, spiega, tutte hanno contribuito con la loro interpretazione alla realizzazione dei miei progetti estetici e le ricordo con gratitudine, sebbene alcune mi hanno rinnegato e altre rilasciano interviste e dichiarazioni non veritiere. Sono stato sempre corretto e ognuna di loro ha scelto con consapevolezza il ruolo che interpretava. Grazie per la visione e arrivederci.